Sul ponte sullo stretto di Messina sarà fondamentale il dibattito pubblico. Così si è espresso il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini in un'intervista rilasciata a un quotidiano nazionale. Abbiamo inviato al Parlamento la relazione tecnica del gruppo di lavoro istituito ad hoc, in cui si suggerisce un ponte a una o più campate dopo uno studio di fattibilità tecnico-economica. Poi sarà fondamentale il dibattito pubblico, così come previsto dalla legge, con il coinvolgimento di istituzioni e enti territoriali. La riflessione del ministro è chiara. Siccome c'è la novità dell'alta velocità Salerno-Reggio-Calabria, devono essere pianificate quelle che tecnicamente si chiamano opere di compensazione, ma che sarebbe meglio chiamare opere di accompagnamento, concordate con i sindaci. Il senso è, se fai l'alta velocità tra Salerno e Reggio e poi la riproponi anche tra Messina e Palermo, è evidente che non la puoi strozzare tra Reggio e Messina. Ecco perché, ci perdonerete il gioco di parole, stavolta la costruzione del ponte non è un'idea campata in aria. Staremo a vedere se le forze politiche supereranno le loro posizioni rigide e antistoriche o se fermeranno, forse per l'ultima volta, il più grande progetto ingegneristico mai pensato nel Mediterraneo.